Lì è il gruppo che stava su questo spazio, adesso le casacche compiranno il brillo blu mentre queste casacche compiranno il brillo rosso da questo lato, dall'altro lato invece avete una direzione, quindi avete una direzione, 10 secondi, questo esercizio è durato 5 minuti un minuto di ritorno e si riprendete va bene?